Il prossimo 25 ottobre si svolgerà la prima udienza del TAR del Lazio contro due autorizzazioni ministeriali concesse per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio. Il procedimento fa seguito ad una serie di ricorsi che a marzo di quest'anno hanno portato il TAR a sospendere gli effetti di un decreto ministeriale che assegnava alla società petrolifera americana GlobalMed il permesso di effettuare le ricerche di idrocarburi in un tratto di mare tra la Calabria e la Puglia. I ricorsi erano stati presentati dopo le pressioni di numerose associazioni ambientaliste del Movimento 5 Stelle dalla Regione Calabria, dai comuni di Crotone, Rossano, Villapiana e Crozia. L'udienza del prossimo 25 ottobre ha commentato l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Pier Nicola Pedicini è molto importante perché sarà l'inizio di una nuova battaglia scientifica e normativa per fare in modo che il TAR si esprima contro le ricerche di idrocarburi in mare attraverso la tecnica dell'Argun, un metodo molto devastante basato su dei cannoni ad aria compressa che provocano onde sismiche sottomarine estremamente pericolose e impattanti per la tutela della flora e della fauna marina. Per questo il Movimento 5 Stelle vigilerà e farà sentire la sua presenza in tutte le sedi e a tutti i livelli. Le decisioni del TAR, ha infine aggiunto Pedicini, saranno la base e potranno diventare un precedente significativo per bloccare la Global Med e altre società petrolifere per i numerosi permessi di ricerca già autorizzati o in via di autorizzazione in varie aree marine della Calabria, della Puglia e delle regioni adriatiche.